Un'altra scossa, oh mamma mia, una dietro l'altra, molto forte adesso, molto forte, un'altra scossa, un'altra scossa, una dietro l'altra, sole 11.26, un'altra scossa in diretta adesso, un'altra scossa in diretta, più forte ancora, più forte, evidentemente c'è qualche cosa, c'è qualche cosa, c'è una chia sim 11.26, un'altra scossa fa molto forte, il lampadaio ancora trema, ancora trema amici, impostiamo subito.